Ciao a tutti ragazzi, sono tornato a fare il video con il mio cane, Vero Wolfino, e oggi vi farò vedere come i Doberman dormono. Questo è un video molto breve per far vedere i Doberman dormono. Loro dormono quando sono stanchi, Vero Wolf, quando si stancano dormi sempre. Lui, di fatto, dorme sempre, 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 questo bel cagnoletto. E a voi vi farò vedere come dormire. Vi farò vedere come i Doberman dormono, Vero Ciccio? Sì, leca leca. Lui dorme così, quando è stanco, allora si mettono a riposare, si mettono là, belli tranquilli. Poi quando hanno finito di mangiare vanno nella loro cesta e dormono. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial sui Doberman, Vero Wolf, salutali. Ciao ragazzi!